buongiorno eccoci di nuova in diretta dalla pagina della dei merangoli e siamo arrivati a calica finalmente un personaggio femminile in questa storia dove catorchio è circondato da maschi come un po nella nostra società il potere è tutto maschile e quando è femminile sempre in questo modo realizzato con modalità maschile e iniziamo questa lettura dedicata a calica alla sardegna immaginata come un'isola antica del passato e alla pianta del lentisco che vedete qui alle mie spalle una pianta che io amo molto e che è tipica della mia terra ci sono betulle che di note levano le loro radici e tu non crederesti mai che di note gli alberi camminano o diventano sogni alda merini quindi nella nostra diciamo penultima giornata oggi il nostro venticinquesimo appuntamento leggiamo il profumo di lentischio e il viaggio di calica era una giornata come le altre nell'isola di catai calica era nel suo laboratorio pieno di ampolle e alambicchi intenta nella preparazione di essenze profumate oli e balsami e le sue ancelle l'aiutavano a riempire i vasetti della fragranza appena preparata nell'isola tutti sapevano distinguere un buon odore da uno cattivo un profumo intenso da uno sfuggente un aroma dolce da uno amaro alcuni perché nascevano con una grande capacità olfattiva altri perché la apprendevano col tempo ognuno coltivava piante aromatiche di specie diverse combinando sapientemente le erbe per confezionare pomate cataplasmi decoti e unguenti profumati del resto catai era un'isola magica era circondata dal mare cristallino attraversata da grandi fiumi e ruscelli ricca di laghi arbusti piante aromatiche e fiori densi di profumo chiunque avesse un buon fiuto avrebbe riconosciuto ovunque quell'inconfondibile odore di salsedine che cova in ogni isola e come in tutti i luoghi incantati vi era uno splendido castello tempestato di pietre preziose e abbellito con pregiate stoffe intrise delle fraganze più inebrianti lì abitava il gran sadir potente re della terra degli aromi le sue stanze erano piene di vasi e vasetti colmi di collane orecchini e bracciali creati di proposito per conservare ogni tipo di aroma il re e tutta la sua famiglia possedevano infatti un gran dono il potere della profumazione e calica per l'appunto era sua figlia la profumiera del regno calica infatti aveva una percezione particolarmente sottile era capace di riconoscere gli odori anche a grande distanza e tutti si fidavano ciecamente del suo olfato nonostante fosse giovane e inesperta della vita fiutava lo stato d'animo delle persone in un attimo avvertiva gli odori dei conflitti e i profumi della serenità era tratta da ogni fragranza piacevole e valutava il bene il male il bianco il nero il bello il brutto esclusivamente col suo naso il suo istinto olfattivo le parlava più delle parole e delle immagini ed era anche capace di condurre la sua giornata in una direzione piuttosto che in un'altra insomma nell'isola di katai ogni attività o percorso di vita erano determinati dalla conoscenza degli odori e la pace e la bellezza regnavano in questa terra donando gioia e allegria ad ogni essere oltre a quello del mare dalle spiagge con la sabbia bianca come il sale proveniva il profumo di mirto ginepro e terebinto la fragranza dei gigli candidi e degli asfodeli scarlati le pianure e le colline profumavano di papaveri gelsomini e fiordalisi e sulle montagne l'odore dei fiori di perico dava luce ad ogni sguardo quel giorno per l'appunto accade una cosa assai strana di cui calica non aveva ancora avuto esperienza giunse dal mare uno sconosciuto a bordo di un'imbarcazione molto resistente tutta fatta di legno e lei subodorò immediatamente la sua presenza egli portava nella barca un fascio di rami sul quale era rimasto disteso per tutto il viaggio e nell'isola si diffuse subito quella straordinaria fragranza calica ne fu talmente attratta che uscì dal suo laboratorio e andò incontro a quel profumo aiutata dalle sue ancelle si diresse verso lo straniero e gli chiese da dove provenisse quell'uomo piccolo e scuro vestito di tutto punto anzi abbigliato in un modo del tutto inconsueto rispose in una lingua che poteva essere a metà tra il latino e il berbero sono un viaggiatore del tempo e vengo dal futuro calica fu molto stupita da quella risposta e domandò ma da quale luogo del futuro provengo da quella terra che un tempo era la tua ma che ora si trova proprio sopra il tuo mondo sommerso in un altro spazio tempo rispose dopo essersi guardato intorno calica non comprese bene ciò che le disse lo straniero ma grazie al suo olfatto si accorse che l'uomo da quando si era allontanato dalla sua barca non emetteva più alcun odore per quanto si sforzasse il suo naso non percepiva assolutamente nulla e questa era una grande novità allora chiese all'uomo perché il tuo corpo è assolutamente in odore è proprio questo il motivo del mio viaggio alcuni uomini del mio tempo stanno perdendo il loro odore e anche la capacità di percepire i profumi e le puzze del mondo la macchina del tempo mi ha portato fin qui per chiedere il tuo aiuto ma tu hai questa pianta molto profumata come si chiama somiglia al nostro terebindo al nostro pistacchio ma è molto più odorosa è per questo che l'ho trasportata sulla mia barca ed è lei che mi ha condotto subito da te tu devi essere calica la profumiera del regno di katai esatto sono proprio io nel futuro ti conosciamo come la più potente profumiera di tutti i tempi abbiamo bisogno che tu ci insegni a riappropriarci del nostro olfato e in cambio ti daremo mille sacchi di semi di questa pianta in modo che tu possa creare nuovi potenti e magici profumi calica si stupì per quella strana proposta ma la sua curiosità era infinita quindi esclamò ma come posso aiutarvi vieni nella nostra terra vorremmo farti conoscere un nuovo profumo con questa nostra pianta che si chiama lentischio e ti chiederemo di comporne proprio uno con questo suo aroma e così lo straniero cominciò a spiegare a calica che il lentischio è un arbusto però può crescere anche fino a 4 metri di altezza come un albero vero e proprio la sua chioma densa molto ramificata è sempre verde i rami possono anche essere usati come elementi ornamentali la sua corteccia ha il colore della cenere mentre il suo legno ha venature rosa ed è molto pregiato la pianta oltre ad emanare un forte odore di resina se cerne questa sostanza che viene usata come mastice e che se masticata purifica l'alito fortifica le gengive e cura i disturbi dello stomaco siccome attecchisce anche nei suoli aridi è usata per migliorare la qualità del terreno i suoi frutti sono piccole druppe rosse che si anneriscono man mano che maturano e da esse si estrae un olio con spiccate proprietà aromatiche che si può usare al posto dell'olio di oliva per condire i cibi ogni parte della pianta frutti foglie rametti corteccia e radici a virtù astringenti inoltre le sue foglie sono usate per tingere i tessuti di un colore giallo intenso calica ascoltò tutte queste notizie sul lentischio con curiosità e trasporto poi domandò ma quali virtù magiche possiede o ha il potere di liberarci dalla sofferenza guarisce le malattie di uomini animali è un potente antidoto contro i veleni ed è in grado di fornire forza e vitalità con il suo infuso può guarire dalle sofferenze amorose dei sensi di colpa e dalla paura di essere giudicati nel nostro paese teniamo in casa foglie rametti per proteggerci dalle malattie e portiamo addosso le foglie perché ci donino buona salute calica un po pensierosa sussurrò quasi trasera se con l'olio prodotto dalle bacche riuscissi a creare un profumo avrebbe tutte queste qualità certo ma devi pronunciare delle parole magiche mentre lo crei in sardegna la mia terra si chiamano isbrebus inoltre usiamo il lentischio anche in cucina per preparare su pane gutiao una vera specialità la minestra di cipolle fave e porri la carne alla braccia i funghi arrosto le frittelle e l'insalata a questa risposta calica non sepe resistere replicò decisa fantastico andiamo nel tuo mondo dai partiamo subito sono davvero curiosa nessuno pensò di impedire a calica quel viaggio poiché il suo olfato era in grado di prendere ogni decisione senza paura o ripensamenti così salì sulla barchetta dello straniero ed esclamò andiamo la barca salpò verso l'orizzonte oscillando lentamente sul mare calmo e si allontanò come una normale imbarcazione ma quando giunse a largo l'uomo del futuro premete un pulsante situato nel fondo dello scafo e nell'acqua si creò un vortice la barchetta penetrò dentro di esso e poi si sollevò con una velocità supersonica abbattendo le barriere del tempo ci volero solo pochi istanti poi il vortice si calmò depositando i due viaggiatori in una specie di cabina di cristallo situata sotto terra ecco siamo arrivati questo è il fondo dell'antica miniera abbandonata di ingurtoso un gruppo di scienziati ha creato questa macchina del tempo grazie alle intuizioni di uno straniero un certo lug che ha il suo laboratorio a molti chilometri da qui ora ti faccio visitare il posto ti mostro le piante e poi ti porterò da lui quando sentirono il nome di lug e sepero che calica sarebbe arrivata da loro catorchio balzò in piedi gioioso cletus sorrise e scatò una foto delle immagini sullo schermo e il bambinello esclamò entusiasta wii 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 invece è gianguido fuori da quel coro esultante e sussurrò preoccupato non sarà mica pericolosa questa calica non ci porterà malattie contagiose e se fosse una specie di strega allora lug gli spruzzò addosso una pozione preparata nel suo laboratorio alchemico una miscela equilibrata di energia della luce del colore delle piante e dei cristalli per evitare che i pensieri negativi di gianguido potessero ridurre la positività e l'entusiasmo del resto del gruppo calica si sentiva un po stordita per il viaggio ma subito si scosse e riguadagnò la sua centratura l'uomo le fece strada attraverso un percorso illuminato con delle solide lampade che lei non aveva mai visto poi la fece entrare in uno strano macchinario che chiamò montacarichi e la condusse in superficie mentre la precedeva le illustrò il luogo dove l'aveva condotta si trattava di uno degli insediamenti minerari più importanti del mondo antico un lungo filone lungo circa 12 chilometri da cui si estraevano argento piombo e zinco si estendeva per tutta la vallata da monte vecchio a ingurtosu ed era immerso in un'atmosfera che l'abbandono rendeva davvero suggestiva calica proveniva da un tempo ancora precedente e osservava con meraviglia quel paesaggio che apparteneva al suo futuro ma che era già fuori dal tempo per lo straniero distingueva le esalazioni di muffa dei ruderi quelle del metallo degli impianti degli enormi cumuli di materiale di scarto e dei carrelli arrugginiti e il tanfo di terra proveniente dai pozzi profondi sembrava di attraversare un villaggio fantasma in cui tutti gli effluvi del passato si erano cristallizzati nei muri e nei vagoni sospesi nella memoria del tempo mentre si inoltravano nel paesaggio un po' spetrale calica apprese che quel luogo era denominato in diversi modi su gurtugio ossia a voltoio come l'uccello che planava su quella valle ma pure su ingurtidrogio cioè l'inghiotitoio in riferimento allo scavo minerario di origini antichissime costituito dalla rete di cuniculi sotterranei che aveva inghiotito tante vite umane infatti il posto era anche noto come valle dei sanimas in ricordo di quei poveri minatori che avevano trascorso l'esistenza sottoterra più morti che vivi una pletora di piccoli uomini nani e nanetti che nelle viscere della terra si mischiavano con gli spiriti elementali degli ignomi che abitavano nel sottosuolo calica attraversava stupita quel paesaggio dirocato e deserto incastonato tra montagne desolate ma era sorpresa dai profumi sublimi che le sue narici già riconoscevano quando arrivarono sulle dune di piscinas le perle della costa verde tra pistis torre dei corsari e scivu il suo cuore sobbalzò per la magia di quelle piccole montagne alte un centinaio di metri e fatte di sabbia dorata un paio di chilometri di giganti d'oro che sembravano parzialmente conficcati nel deserto e lei odorò quel vento fresco a volte leggero a volte sferzante che aveva scolpito la loro forma con la sua prolungata e incessante azione il maestrale prima donava energia al mare che sospingeva le sabbie sulla costa poi sofiava con impeto per spingerle verso l'entroterra creando colline rotonde infine le modellava con le sue braccia instancabili e costantemente protese verso la sua scultura era l'oasi più bella che avesse mai visto perché la finissima sabbia dorata improvvisamente diventava una lunghissima spiaggia che si tuffava in un mare azzurro e sconfinato spettacolare per le sue onde selvagge spesso temibili a volte addirittura ostili che raramente si quietava per mostrare la bellezza del litorale calica percepì il profumo di questo mare immenso apprezzò la sua purezza misurò la profondità del fondale sabbioso e riconobbe i diversi odori della fauna multiforme iniziò quindi a distinguere i profumi della macchia mediterranea e della vita che la abitava tra cespugli di sparto pungente e di carota spinosa tra gigli di mare e ginepri piegati dal maestrale in mezzo ad olivastri secolari raccolti in boschetti ecco le immense distese di lentischio scintillanti al sole e in mezzo ad esse esemplari di cervo sardo e le uova nascoste nella sabbia della rarissima tartaruga caretta caretta deposte nel mese di giugno calica fu profondamente colpita dall'ambiente e si avvicinò con amore alla sua nuova pianta ma cresso le foglie e ne respirò l'intenso profumo a quel punto anche catorchio e cletus avevano raggiunto i rami del lentischio e respiravano a pieni polmoni il suo aroma mentre il bambinello era rimasto incantato dalla bellezza e dalla personalità di calica tutti e tre la guardavano trasognati solo gianguido era immerso nel suo mugugno e si preoccupava che la pianta potesse essere velenosa che il cervo sardo lo prendesse a cornate e che la tartaruga rilasciasse la bava collosa gli altri invece intuirono che nulla della natura selvaggia di questo posto potesse davvero far loro del male e si abbandonarono a quella infinita grazia estasiati dalla passione con cui calica si avvicinava alla pianta dall'eleganza principesca del suo incedere dalla gentilezza con cui accarezzava il lentischio dallo sfavillare del suo sguardo emozionato non avevano mai visto una creatura capace di sprigionare una bellezza così totale e trascinante e questa è l'illustrazione sempre di nicolò pizzorno dell'allegra brigata che si sta costituendo dove è arrivata finalmente calica un personaggio femminile che guiderà il loro futuro la pianta del lentischio è questa che vedete alle mie spalle una pianta che ho iniziato ad amare solo dopo tanto tempo sembrava una pianta normale senza grandi scintilli quando la vedevo sempre sulle coste al mare poi mi sono resa conto che mentre le altre piante perdono le foglie e diventano e perdono il loro verde brillante il lentischio sempre rimane così con questo colore verdeggiante che mi ricorda molto la mia isola e poi nascono pure delle bacche bellissime rosse così che sono i frutti delle lentischio queste truppe queste druppe rosse quindi vi do appuntamento alla prossima puntata sempre alle 10 sulla pagina delle della dei merangoli con questa fiaba dedicata a una pianta molto famosa in sardegna che insieme al mirto la caratterizza e al ginepro e al alla località di piscina sale miniere di ingurtoso che sono dei paesaggi che dovete assolutamente vedere che dovete assolutamente conoscere prima di andare a girare tutto il mondo vedetevi questa bellissima parte della nostra isola molto misteriosa e soprattutto diciamo in questa fiaba c'è l'ipotesi che un nostro giornalista ha fatto che la sardegna possa essere stata l'antica atlantide chissà non lo potremo mai sapere però ci piace di crederlo un saluto a tutti alla prossima